Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code 2 km con tendenza alla diminuzione per incidente adesso risolto tra Chiusi e Valdichiana in direzione nord. Sempre in A1, possibili disagi per presenza di personale su strada verso nord tra Firenze Impruneta e Barberino de Mugello. Prudenza per pioggia in A12 tra Pisa Centro e l'allacciamento con l'Aurela. Raccomandiamo di modellare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Siamo al traffico urbano di Firenze. Cominciano domani, lunedì 26 settembre, lavori di riqualificazione dell'impalcato e della fila al lato centro di Ponte Vespucci. Il progetto prevede anche la realizzazione di una pista ciclabile su entrambe le carreggiate, tutti i dettagli e i provvedimenti di mobilità sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per oggi è tutto, i nostri aggiornamenti tornano domattina alle 7.30.